Agente in borghese per controlli su specifici comportamenti dei cittadini e stretta sui botti di fine anno. Queste alcune delle strategie portate avanti dalla Polizia Municipale di Arezzo, guidata dallo scorso 5 dicembre dal comandante Cino Augusto Cecchini, che assieme al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha illustrato le attività dell'APM e prefigurato le strategie che guideranno l'operatività degli agenti. Ci siamo posti un programma di ulteriore miglioramento del servizio reso nei confronti dei cittadini, ovviamente nei confronti del primo problema percepito e reale che è quello della sicurezza. Per cui oltre ad avere un piano assunzionale per il 2017 che prevede l'assunzione di nuovi vigili urbani, abbiamo messo in piedi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un servizio di controllo in borghese. Dopo un periodo di prevenzione vissuto con la gente indivisa, che sarebbe servito a dover evitare vedere certi comportamenti, quindi adesso non c'è più spazio per la cosiddetta prevenzione, adesso bisogna reprimere. E chiaramente useremo tutti i mezzi che sono leciti, che il codice della strada ci permette. E tra le infrazioni ce n'è una che più delle altre viene commessa dagli aretini al volante. Sì, direi che il primo periodo di apprendistato proprio mi ha permesso di conoscere qualche comportamento non proprio in linea con il codice della strada. Mi riferisco in particolare all'uso del telefonino durante la guida. In arrivo anche un'ordinanza del sindaco, Antibotti, di Capodanno. Chiederemo ai cittadini di essere, diciamo così, di darci una mano affinché la festa dell'ultimo dell'anno avvenga nella massima sicurezza e senza nessun incidente, proprio perché è stato messo in piedi dal comitato tecnico presieduto dal signor questore e dal comitato dell'ordine pubblico presieduto dal signor prefetto, un apparato che serve proprio perché i cittadini possano venire in centro tranquillamente senza paura di dover avere qualche problema. Rinnovato infine il massimo impegno e attenzione della Municipale in termini di sicurezza nella zona di Saione negli ultimi giorni teatro di eventi criminosi. È un fenomeno che dobbiamo monitorare, lo stiamo monitorando, stiamo impartendo alle pattuglie anche le disposizioni affinché transitino più volte durante il pomeriggio, soprattutto durante il pomeriggio sera, in situazione di dispositivi visivi accesi in maniera anche che la gente veda e soprattutto veda anche chi avrebbe qualche intenzione non proprio in linea con il codice penale o peggio.